Ha visto che bravi soldatini? Certo, sono avvantaggiati, eh? A quell'età si impara tutto più presto. Su, è così facile. Ci sono i bottoni come le brachette. Ma perché, Bianchi? Vedessi come sei carino con la maschera. Beh, carino non direi. Ecco. Eh, sì, forse era più carino con la maschera. Permetti... Altola! Un soldato non si deve far mai togliere il fucile. Bravo, ma adesso dammelo un momento. Il fucile non si poggia, ma si tira. Complimenti. Tu sei un vero balilla. Ma dovresti anche sapere che il fucile deve essere sempre pulito. Svegliarsi, Giovanotto, eh? Svegliarsi. Segno sì. Quelli della quinta sono più bravi, però stamattina non ci sono. Eh, ma così non impareranno mai. È sbagliata l'oscillazione. Vedete? Questa è la presa. Voi, naturalmente, sarete bravissimi. Marrangio. Allora. Terzo classificato ai lettoriali di Roma. No, 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 no.